Primo maggio a Ferrandina la festa dei lavoratori promossa da CGL Cisle Will e a Matera i convegni della Confial e dell'Inps. In occasione della festa dei lavoratori boom di presenza a Matera il sindaco, grande soddisfazione. Regione Basilicata manovre nella maggioranza. Il Comune di Potenza approva il rendiconto 2018. Matera 2019 open future delle imprese italiane, opera della primaziale pisana negli ipogei di San Francesco. Giornata internazionale del jazz anche nella città dei sassi. Conservatorio Duni di Matera ha presentato il concerto Il Mozarteum di Salisburgo. E oggi mercoledì primo maggio viene celebrata la festa dei lavoratori a Ferrandina del Materano, la festa organizzata da CGL Cisle e Will. Un grande centro con una grande area industriale in bilico tra lavoro e ambiente, tra giovani che vanno via per mancanza di lavoro e altri che resistono. Ferrandina è una piccola basilicata almeno per oggi primo maggio dove si sono concentrati tantissimi lavoratori e lavoratrici da tutta la regione per la festa dedicata a loro ma non solo a loro, anche a coloro che lavoro lo hanno perso o che lo stanno cercando. Come ha detto lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le tre principali sigle sindacali, CGL Cisle e Will, insieme per lanciare un messaggio alla nuova giunta regionale affinché vengano accolte le loro richieste e si apra un tavolo di concertazione tra le parti sociali e il mondo politico. Perché Ferrandina rappresenta un po' tutta la Basilicata, la situazione delle aree industriali di tutta la Basilicata. Il fallimento dei piani industriali di questa regione, la desertificazione, lo spopolamento. Ferrandina racchiude e sintetizza tutti questi concetti ed è a partire da questi concetti che noi vogliamo confrontarci proprio con la regione basilicata e con la nuova giunta, il nuovo presidente della regione basilicata. Ascoltateci perché noi non ci presentiamo al cospetto e al confronto con questa nuova giunta a mani vuote. Abbiamo proposte che abbiamo fatto al precedente governo e che riproponiamo anche in chiave rivisitata a questo nuovo governo. Ascoltateci perché abbiamo bisogno di lavoro, dobbiamo mettere al primo posto della nostra agenda e dell'agenda di questa nuova giunta la questione del lavoro, il lavoro che manca, il lavoro che non c'è, il lavoro che cambia, il lavoro che si perde. Io individuo in tre grandi potenzialità che ha la Basilicata, l'acqua, il petrolio e il bosco devono rappresentare per noi tre grandi nuovi progetti industriali. Richiamare quindi l'attenzione su quei temi che da anni e anni non riescono ad essere risolti o quantomeno non riescono ad essere il volano di sviluppo della regione basilicata. Una regione che ha 72 mila disoccupati e quasi una dozzina di vertenze aperte al mese dove i giovani scappano invertire la rotta sembra impossibile. La ricetta non è facile ma le sigle sindacali vogliono ripartire da una politica che possa equilibrare industria e ambiente e punti alle infrastrutture sia materiali ma soprattutto immateriali. La ricetta non è facile ma le sigle sindacali vogliono ripartire da una politica che possa equilibrare industria e ambiente e che punti alle infrastrutture sia materiali ma soprattutto immateriali, rilanciando il vero valore aggiunto della Basilicata, ovvero il capitale umano. Siamo qui a Ferrandina per parlare di Valbasendo, di bonifica ambientale e di rilancio di ZES. Insomma, la Basilicata ha mostrato tutti i suoi limiti rispetto alla macchina dei controlli. I fatti di Vigiano mettono in luce che noi abbiamo una pubblica amministrazione, istituzioni, presidi che devono svolgere quelle importanti attività di controllo affinché le attività industriali siano combattibili con quelle ambientali. E a Matera invece in occasione della Festa dei Lavoratori il convegno della Confial sul rapporto tra sindacato e cultura. Per celebrare il primo maggio la Confederazione Italiana Autonoma dei Lavoratori ha organizzato a Matera un incontro nazionale sul tema Cultura e Lavoro si incontrano. Il binomio cultura-lavoro è stato sempre al centro della filosofia che ha ispirato l'azione del sindacato. I lavori coordinati dal giornalista Pier Antonio Lutrelli, dopo i saluti del primo cittadino Raffaello De Ruggeri e la relazione del segretario nazionale Benedetto Di Iacovo sono proseguiti con un confronto tra diversi esponenti politici, parlamentari, uomini di cultura e del mondo accademico. Abbiamo scelto Matera non solo per quello che oggi rappresenta, capitale europeo della cultura per il 2019, ma soprattutto perché pensiamo che lavoro è cultura e che il sindacato sia un produttore di cultura anche se ne beneficia poco e a volte è anche carente nel socializzarla questa cultura. Circa 200 quadri del sindacato provenienti da diverse regioni italiane nella capitale europea della cultura per discutere di azioni e prospettive molto importanti da sottoporre agli organismi istituzionali. Una grande persona, il dottor Fausto Taverniti, già direttore della RAI e della Basilicata, mi chiese di fare un'iniziativa a Matera. Avrei voluto farla insieme a lui. Io oggi gli voglio dedicare questa giornata perché lui ha creduto fortemente nel progetto Matera. E ieri alla vigilia della festa dei lavoratori, l'Inps e la Fondazione Matera Basilicata 2019 hanno tenuto proprio a Matera un incontro. Vediamo. Lavoro, Previdenza e Cultura come dimensioni strategiche dell'innovazione e dello sviluppo sociale. Questi temi al centro del convegno internazionale, organizzato ieri a Matera dall'Inps in partenariato con la Fondazione Matera Basilicata 2019. L'evento dal titolo Cultura e lavoro, valori essenziali per lo sviluppo, rientra nel quadro delle iniziative in agenda per Matera, capitale europea della cultura 2019. Sì, oggi è una tornata molto bella perché c'è un confronto sui temi del lavoro, della cultura e della protezione sociale che sono valori a cui ovviamente l'Inps come istituto di previdenza nazionale a cui tiene tantissimo. È venuto il presidente dell'istituto, il professor Pasquale Tridico, è venuto oggi, è stato anche in sede qui a Matera tra i lavoratori e c'è questo confronto tra lui e altri due presidenti degli istituti previdenziali, polacco e tedesco, le due dottoresse Uscinska Polacco e la dottoressa Rosbach dell'istituto tedesco. Quindi c'è un confronto anche sul modello di welfare. In prosecuzione dell'iniziativa, in occasione della festa del lavoro, per la mattinata di oggi, primo maggio, l'Inps di Basilicata ha inoltre promosso Porte Aperte in Inps. Un modo per celebrare dunque in maniera consapevole la festa dei lavoratori, una ricorrenza lunga 133 anni, utile a ricordare la lotta dei lavoratori per la riduzione della giornata lavorativa e per l'acquisizione di diritti imprescindibili. Oggi la cultura è il lavoro. Se pensiamo che soltanto dieci anni fa l'impatto della cultura nei posti di lavoro era il 9%, oggi supera il 14%, nei prossimi dieci anni raggiungerà oltre il 25%. Quindi un posto su quattro del mondo del lavoro sarà dedicato proprio allo sviluppo dei beni culturali. Primo maggio che ancora una volta ha fatto registrare a Matera un boom di presenze. Grande soddisfazione espressa dal primo cittadino, Raffaello De Ruggeri. Boom di presenze a Matera anche in occasione della festa dei lavoratori. Il fascino delle città d'arte dove i tassi di occupazione più elevati si registrano per Firenze, Venezia, Matera, Napoli, Roma e Palermo sono intorno al 75%. Lo riferiscono i dati di Asso Turismo che, non a caso, confermano il trend registrato a Matera già nei giorni di Pasqua. Tutto esaurito dunque nella città capitale europea della cultura che si colloca sul podio delle città italiane più visitate. Questo ci dà grande soddisfazione. Se poi portiamo questa valutazione sul capitolo economico, il PIL a Matera è cresciuto dell'1,6%, a Milano dell'1,2%. Però questo non può soddisfarci, perché il turismo rappresenta un tassello dello sviluppo di questa città. Dobbiamo trovare negli altri settori, primari e secondari, la compensazione di ciò che ancora manca in questa città. E quindi noi stiamo lavorando sia per risaltare la qualità agricola del nostro territorio, ma soprattutto per trasformare l'attenzione creativa di questa città in economia creativa legata all'innovazione e alla tecnologia. E restiamo a Matera e scopriamo insieme quali sono per questa giornata le nuove disposizioni alla mobilità cittadina. Primo maggio, ultima giornata del superponte primaverile da Bollino Rosso per la mobilità cittadina. Ed anche la sosta e la circolazione dei veicoli subiranno alcune variazioni. Saranno attivi tutti i varchi delle ZTL, Centro Storico, Civita, Via Roma, Via Scanio Persio, chiusi dalle 5 alle 21 quelli delle ZTL Sassi. Inoltre, il transito dei veicoli sarà consentito 24 ore su 24 solo a persone munite di pass diversamente abili, noleggio, taxi e mezzi di emergente al trasporto pubblico, mentre quello dei veicoli dei residenti e degli operatori economici sarà autorizzato solo dalle 7 alle 9 e dopo le 21. Diritto di sosta dalle 9 alle 21 nella ZTL Sassi, di sosta e di transito in Via Dominzoni e in Via Scanio Persio dalle 9 alle 21, mentre il tratto di Via Lucana, compreso tra l'intersezione tra Via Dominzoni e Via Roma Nord, dalle 9 alle 21 resterà chiuso. Saranno esituite inoltre navette gratuite dalla zona mercatale del Pipe 2, destinato ad aree di sosta, che transiteranno con frequenza oraria ogni 20 minuti. La linea Sassi effettuerà corsi a pagamento ogni 15 minuti. Invariate le disposizioni che reggono l'afflusso su murge e timone, che prevedono il divieto di transito per tutti i veicoli, tra la località Iazzo Gattini e il piazzale Belvedere dalle 9 alle 20. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla festa dei lavoratori e passiamo alla politica regionale, perché sono in corso ampie manovre nella maggioranza. Grandi manovre in seno alla maggioranza della regione Basilicata. Entro il primo consiglio dell'undicesima legislatura, convocata per lunedì 6 maggio, chiamato a varare la giunta del neogovernatore Vito Bardi. A dettare la linea sono Lega e Forza Italia. In particolare, i fedeli a Matteo Salvini puntano ad ottenere 3 assessori su 5, motivati dai 6 su 12 consiglieri arrivati nel parlamentino. Se ciò non dovesse accadere, pronti ad accontentarsi con due assessori, il più votato, il leghista Francesco Fanelli, ed un nome esterno. Tra i papabili, rumors indicano i profili dell'ex presidente di Lega Coop, Paolo Laguardia, l'ex direttore dell'azienda ospedaliera San Carlo e sviluppo Basilicata, Gian Piero Maruggi. Negli incastri, Forza Italia dovrebbe così indicare un secondo assessore donna, L'unica presenza rosa eletta è però in quota a carroccio Donatella Merra, destinata alla presidenza del Consiglio, che lascerebbe spazio alla seconda dei non eletti di Forza Italia, l'ex presidente di Confindustria Giovani, Gabriella Megale. Saltato il vertice ad Arcori a causa del ricovero ospedaliero del leader Silvio Berlusconi, il coordinatore regionale Giuseppe Moles dovrà dirimere la scelta del papabile assessore azzurro tra Rocco Leone, già consigliere più anziano che presiderà la prima seduta dell'Assemblea regionale, e Francesco Cupparo. Da capire poi, le mosse di idea con l'ex assessore consigliere regionale Nicola Benedetto con mire di un assessorato a tempo. Intanto, sul fronte sindacale, la segreteria generale della CISL e della CISL Funzione Pubblica hanno inviato una lettera aperta al governatore Bardi per chiedere, tra i primi provvedimenti, uno ad hoc sul sistema sanitario lucano. E presso il circolo Angilla Vecchia di Potenza, incontro promosso da più Europa in vista delle tornate elettorali europee e comunale. I quadri dirigenziali, che riuniscono anche Centro Democratico e Popolari, hanno discusso insieme al candidato lucano per le elezioni europee, Francesco Galtieri, in più spazio alla presenza dei candidati per le amministrative nel capologo lucano. Ad emergere negli interventi il contenuto del programma a sostegno della coalizione di centrosinistra che vede quale candidato a sindaco, Bianca Andretta, definito un documento per il riscatto e la definizione di un ruolo della città nel contesto più generale del mezzogiorno e per individuare le azioni più idonee a sollecitare il necessario riscatto sociale mediante un recupero urbanistico. Tra le pagine in evidenza la rivitalizzazione del centro storico, riconversione dell'area industriale con attenzione all'ambiente ed un nuovo piano strutturale che tenga in conto i presidi dei servizi comunali e regionali. E intanto il Comune di Potenza nel corso dell'ultima seduta ha approvato il rendiconto 2018. Nell'ultima seduta della legislatura ed in un clima di piena campagna elettorale, il Consiglio Comunale di Potenza ha approvato a maggioranza il bilancio consuntivo 2018. Voto contrario al provvedimento è stato espresso dalle opposizioni in quota 100 a destra, Movimento 5 Stelle e consigliere PD Nicola Lovallo. Nell'illustrare il rendiconto di gestione, l'assessore potentino al bilancio Luigi Vergari ha specificato l'avanzo di amministrazione per circa 2 milioni di euro, superiore al 2017. Rispettati gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, i debiti fuori bilancio ammontano a 410 mila euro, gli interessi passivi diminuiti da oltre un milione del 2017 e circa 200 mila del 2018. Sul fronte dell'indebitamento inoltre dai quasi 145 milioni di euro e circa 137,5 milioni del 2018. Anche il bilancio di acta si chiude con un avanzo di amministrazione, ha dichiarato Vergari. Al termine di questa esperienza ringrazio il Sindaco per avermi dato l'opportunità di servire la mia comunità, portando l'ente dai 26,6 milioni di disavanzo del 2014 agli oltre 2 milioni di avanzo di amministrazione nel 2018. Dal Sindaco De Luca, ormai prossimo alla fine del mandato, il ringraziamento al Presidente del Consiglio Luigi Petrone e l'Aula per l'approvazione del rendiconto 2018, a chiusura di un percorso specificato di risanamento contabile e amministrativo dell'ente comunale. Ed è stata intitolata per la prima volta nazionale l'archeologa lituana Maria Alseika Gimbutas, l'aiuola di potenza posta tra via del Gallitello e l'imbocco della Galleria Unità d'Italia. La cerimonia con scopertura della targa è avvenuta alla presenza dell'ideatrice dell'iniziativa, l'artista potentina Teri Volini, dell'amministrazione comunale con il Sindaco De Luca e l'assessore all'urbanistica Rocco Pergola, della consigliera effettiva di parità regionale Ivana Pipponzi e della Presidente dell'Associazione Telefono Donna, Cinzia Marroccoli. Nata in ambito linguistico e dell'interpretazione della mitologia, la Gimbutas è scomparsa nel 1994 a Los Angeles. La città di Potenza ha voluto riconoscerle l'impegno da portabandiera di pace profuso lungo la vita con la scelta di uno snodo viario importante. Segnale positivo in tempi difficili sullo scenario globale ed anche per incrementare la presenza toponomastica al femminile sul territorio. Finora ferma ad una ventina di intitolazione. Gli aspetti tecnici dell'iniziativa sono stati curati dall'architetto e responsabile dell'ufficio comunale Giancarlo Grano. L'auspicio emerso durante gli interventi è di sensibilizzare la cittadinanza con l'intitolazione di tante altre targhe a memoria di donne che possano essere da esempio soprattutto per le più giovani. Matera 2019, Open Future delle imprese italiane. Ieri presentata l'opera della Primaziale Pisana negli Ipogei di San Francesco. Cominciati ieri negli spazi dell'Ipogei di San Francesco, gli incontri dell'opera della Primaziale Pisana con il pubblico di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. L'istituzione che si occupa della gestione della conservazione dei monumenti e dei musei della piazza del Duomo di Pisa, si è giudicata il bando di Confindustria Fondazione Matera Capitale 2019, l'Open Future delle imprese italiane, che ha selezionato sul territorio nazionale 50 aziende con progetti e iniziative legate allo sviluppo, la cultura e al territorio. 50 imprese che quest'anno si racconteranno e racconteranno soprattutto quello che è il loro prodotto, il loro brand, i loro servizi. Abbiamo qui questa settimana primaziale Pisana, una società che pone molta attenzione alla cultura, al recupero e soprattutto per quello che può essere caratterizzato da un legame culturale di Matera e Pisa. Quindi stringono ancora di più questa alleanza proprio per dare valore alla cultura diffusa, una cultura trasversale, cultura di impresa, cultura del recupero appunto storico e artistico del nostro patrimonio e soprattutto per dare, come dire, quella giusta enfasi di sviluppo all'economia di un territorio. Fino al prossimo 6 maggio, l'opera della primaziale Pisana presenterà le tecnologie usate per il restauro degli affreschi del Campo Santo e in particolare l'utilizzo di micro batteri per la pulizia delle pitture e di teli scaldanti, per combattere le problematiche relative alle condense atmosferiche. Con Matera queste similitudini sono dovute intanto a grandi flussi turistici e che noi abbiamo da sempre, che voi avete incrementato in particolare in questi ultimi periodi e poi anche, ripeto, la continua ricerca dell'innovazione, del nuovo e anche del restauro, dei rifacimenti, del restauro di nuove grotte, di nuovi sassi, anche nei loro interni. Quindi questi sono i punti di riferimento. E anche Matera, ieri aderito alla giornata internazionale dedicata al jazz. Anche Matera, ieri aderito alla giornata internazionale del jazz, ieri non a caso, gli studenti dell'istituto comprensivo Pascoli di Matera sono stati accolti da musicisti capitanati dal direttore artistico del jazz dei a scuola Dino Plasmati, anche docente della scuola. Con un ambasciatore come Herbie Hancock, pianista dal carisma indiscusso, la giornata internazionale del jazz, istituita dall'UNESCO nel 2011, è un evento unico, nata per sottolineare la natura del jazz, quale strumento di pace. Le attività all'istituto Pascoli sono proseguite fino al tardo pomeriggio, con una ricca scaletta che ha visto l'esibizione della Lip Big Band dei giovanissimi musicisti dell'orchestra giovanile della scuola. Tante attività collaterali, compresa una pausa picnic in giardino e un laboratorio musicale per bambini, in collaborazione con il nido Il Palloncino Blu. Tra gli altri eventi clou della giornata Matera, il concerto serale a Casa Cava di Massimiliano Milesi per la rassegna Gezziamoci 2019. Iniziativa supportata con l'allestimento a tema di dieci vetrine nel centro storico che hanno creato un percorso turistico caratterizzato dagli strumenti, i libri, i vinili e i suoni che caratterizzano il mondo del jazz con il coinvolgimento del liceo artistico Carlo Levi Duni di Matera. Sempre ieri nell'auditorium del Conservatorio Duni di Matera è stato presentato il concerto internazionale il Mozarteum di Salisburgo. Nomi importanti della musica internazionale insieme alla preparazione dell'orchestra del Conservatorio Duni di Matera hanno garantito il successo nella serata di martedì 30 aprile del concerto Il Mozarteum di Salisburgo organizzato nell'ambito del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 Duni Europa, coprodotto con Fondazione Matera Basilicata 2019 e in collaborazione con la Società Italiana della Musica da Camera. La sfida del progetto è infatti quella di rendere accessibile a tutti la musica da camera attraverso una serie di concerti internazionali fra Matera, Salisburgo e Astana in Kazakistan. Il concerto sarà replicato oggi nel comune di Ariano Irpino il 3 maggio a Casale Monferrato e domenica 5 maggio alle ore 19 nella sala maggiore del Mozarteum di Salisburgo dove l'orchestra sinfonica del Conservatorio di Matera diretta da Francesco Di Mauro sarà protagonista di un concerto il cui programma è aperto e chiuso da due composizioni di autori lucani contemporanei Antonello Tosto autore di Intanto a Matera e Damiano D'Ambrosio che firma Il Canto dei Sassi. Questo in particolare è forse l'evento più importante perché portare la nostra musica di Antonello Tosto, nostro allievo di composizione, con il brano Intanto a Matera e il Canto dei Sassi di Damiano D'Ambrosio che l'abbiamo già portato alla Filarmonica di Berlino nel 2012, lo portiamo in un altro dei templi della musica che è il Mozarteum di Salisburgo il 5 maggio e potete immaginare l'entusiasmo dei nostri ragazzi, non suonare in questo teatro che tra l'altro hanno già venduto tutti i biglietti, ci sarà il sold out. Il concerto è molto bello, il programma che mi hanno proposto l'ho accettato con tanto entusiasmo perché abbraccia dei brani che permettono sia a me che ai musicisti che a tutti gli uditori di fare un viaggio mitteleuropeo perché si parte da temi locali materani, si va a Mozart, poi si va in Corea e si ritorna un'altra volta qui, quindi un viaggio con la fantasia in giro per il mondo visto che Matera è la capitale della cultura europea quest'anno. E passiamo allo sport perché l'Olimpia Bauer Matera comincia oggi l'avventura playoff. Obiettivo qualificazione per la Bauer Matera, questa sera alle 20 i biancazzurri scenderanno in campo a distanza di tre giorni per gara 2 dei quarti di finale playoff sul parquet del Biceglie per cercare di chiudere la serie e centrare le semifinali. Dopo il successo nella prima partita disputata al Palasassi domenica scorsa, in casa materana si punta al bis per evitare poi di doversi giocare la qualificazione domenica prossima nell'eventuale gara 3. L'andamento di gara 1 ha dimostrato grande equilibrio in campo, nelle sfide valide per i playoff, sempre cariche di pressione. In questi due giorni si è lavorato per smaltire più presto le fatiche di domenica ed essere pronti all'appuntamento odierno. Si sa che sono partite che hanno un peso specifico determinante, non è facile giugarle, c'è tanta pressione, però in questo momento la stagione non conta la qualità, conta più essere concreti, io sono molto contento, va bene, andiamo 1-0, sappiamo che ancora c'è tanta strada da fare per chiudere la serie. E non ci sono ulteriori aggiornamenti, grazie per essere stati in nostra compagnia e buona continuazione di giornata.